Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di una variante, di un grandissimo classico che è appunto il Margarita Cocktail e con un tocco molto particolare, molto aggrumato. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Salico, Licoripineta e Vermouth Mita, ma ora andiamo a scoprire come preparare il nostro Yellow Margarita. Bene, prima di cominciare, mi raccomando, iscriviti al canale e, din don, clicca sulla campanella e addentriamoci un po' in questa, appunto, nella ricetta. Intanto, perché ho deciso di registrare questo video? In realtà, molte ricette, insomma, ce le ho nella mia testa, ma molto spesso, insomma, ci sono anche dei ragazzi, ragazzi e ragazze che mi iscrivono, follower e quant'altro, e allora dicono, ah, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. C'è stato appunto uno di voi, Piero Vigile, che saluto, e che mi ha mandato questa ricetta, ha detto, ah, ho visto il tuo video e mi ha ispirato, avevo il bergamotto a casa e ho fatto una variante del Margarita Cocktail con il succo di bergamotto al posto del succo di lime, è un successone, mi ha scritto, ha detto, caspita, e mi sono ricordato di avere ancora questo frutto, che è appunto il limo, che è particolare perché non è il lime, la limetta, non è il limone, insomma, è una, diciamo, una categoria a sé stante sotto certi punti di vista, perché in realtà ha la forma che sembra un limone, perché è giallo un po' verde, le dimensioni di un lime è grande, un po' più, diciamo, più tondeggiante, come se fosse una specie di mandarino, però la cosa interessante è l'interno, che non è molto aspro, così come il lime o il limone, però ricorda moltissimo il gusto del bergamotto, quindi quando lui mi ha detto questa cosa qui, ho detto, ok, proverò a fare la mia versione di, appunto, del Margarita Cocktail, che è un grande classico, chiaramente, e non è principalmente invernale, però chi l'ha detto, insomma, che uno non si possa fare, uno pensa al Margarita, pensa, insomma, alla piscina, pensa arriva al mare, sulla spiaggia e quant'altro, però chi è amante di questa tipologia di drink è un drink che si può bere praticamente tutto l'anno. Benissimo, allora ci addentriamo un po', io andrò a fare giusto due o tre varianti, cioè due o tre piccole modifiche sulla ricetta originale, che ricordo che, insomma, da codificazione IBA sono 50 ml, quindi 5 cl di tequila, 100% agave, poi c'è 3 cl di triple sec e 1 cl e mezzo di succo di lime. Si shakera, quindi è un cocktail shake and strain, si verse in una coppetta, la coppa margarita, appunto, che ha questa forma particolare, diciamo, ha la forma sombrero, e poi si fa l'abordatura di, anche questo è opzionale, di metà bicchiere fatto con, appunto, il sale. Io andrò a fare una variante di queste tre cose, ossia, manterrò sempre il tequila come distillato principale, andrò a sostituire il triple sec con il nostro liquore agli agrumi, che, insomma, abbiamo anche registrato, tra l'altro, se te lo sei perso, troverai il link qui sopra. Qui c'è, insomma, cedro, arancia, limone, insomma, è un liquore comunque molto agrumato, e come puoi vedere ha questo colore molto acceso. In ultimo andrò a fare la bordatura, chiaramente il succo di lime andrò a sostituirlo con il succo di limo, te l'ho già detto, e infine andrò a fare la bordatura di metà bicchiere, non semplicemente con il sale, ma andrò a fare sale e una polvere di arancia, in questo caso, quindi è la buccia di arancia disidratata e poi fatta in polvere. Anche qui, se ti sei perso l'episodio in cui parlo di, insomma, di come trattare gli agrumi, cioè come tagliare, disidratare e, insomma, ottenere vari ingredienti degli agrumi, e ti consiglio di andare a vederti, appunto, il video che trovi, il link qui sopra. Procediamo? Procediamo. Quindi, prima cosa da fare, chiaramente, è crearsi, appunto, gli ingredienti, quindi farsi la mise en place, lo faccio perché? Perché, soprattutto per chi mi segue, segue anche l'ABC del bartender, sa che spesso in altri video c'è ricetta, pic, due secondi e hanno fatto, diciamo, due minuti e hanno fatto il drink, però, chiaramente, manca tutto il prima e tutto il dopo, e se tu non sei tanto esperto del settore della ristorazione o comunque del bar, magari questi passaggi ti potrebbero sfuggire. Quindi, la prima cosa che facciamo è, io mi sono fatto, per farlo, diciamo, alla casalinga maniera, anziché usare il rim, per fare l'abordatura, andrò a mettere sale e un pochino d'acqua o sciroppo di zucchero, però non avrebbe senso fare sciroppo di zucchero per fare l'abordatura perché poi ci mettiamo il sale, quindi andrò, lo faccio con l'acqua, va bene lo stesso. Quindi, uno con l'acqua, questo qui dove ci abbiamo messo un pochino di sale, andrò a metterci un pochino di polvere di agrumi, in questo caso di arance, che poi andremo a miscelare insieme, benissimo, e li creiamo anche un po' un tocco diverso. Poi andiamo a prepararci, appunto, il, diciamo, il limo, andiamo a spremerlo, ma, come dico sempre, per ottenere il più possibile da ogni ingrediente, io consiglio di andare a togliere, a rimuovere la buccia, e in questo caso ce ne servirà, anziché un cl e mezzo di lime, questo qui è molto meno aspro, quindi io ne metterò due cl di questo qui, e secondo me con questo ci arriviamo tranquillamente, andrò a rimuovere prima di tutto la buccia, in modo tale che posso ottenere due ingredienti al posto di uno, quindi sia la buccia che, appunto, il succo, le bucce poi posso scegliere di utilizzarle in questo drink, oppure posso scegliere di disidratarle, o le puoi semplicemente utilizzare come profumatore d'ambiente, insomma, scegli tu. Se ti rimane un pochino di parte bianca, non ti preoccupare, poi magari la rimuovi dopo con un coltello, andiamo a togliere, diciamo, la maggior parte, insomma, dalla buccia, a posto, e questo è il nostro primo ingrediente, che in realtà non andrò ad utilizzare oggi, andiamo a tagliare il nostro limo, e, come puoi vedere, l'interno è molto simile ad un limone, il profumo, mi dispiace, non te lo posso descrivere al 100%, ma è veramente molto profumato, ricorda davvero molto il lime, andiamo a prendere il nostro lime squeezer, e andiamo a spremerci, appunto, il, o la spremia grumi, quello che hai, puoi farlo anche con una forchetta all'interno, va bene uguale, a noi ce ne serviranno due cl, a posto, uno, in realtà, al posto dell'acqua, puoi usare anche un po' di succo di lime, per fare la bordatura, qualsiasi liquido va bene, l'importante, insomma, che, appunto, essendo liquido, aiuta a far attaccare, insomma, a far aderire il sale in questione, questo mettiamo tutto a lavare, bene, quindi, procediamo con la decorazione, andiamo a fare la nostra bordatura del bicchiere, e andiamo a bagnarlo con, appunto, in questo caso, con dell'acqua, però poi, l'acqua è un po' più instabile sotto certi punti di vista, perché tenderà a non far aderire benissimo, e ci vorrebbe uno sciroppo, sarebbe un pochino meglio, ma va bene, accontentiamoci di quello che è. In questo caso, abbiamo fatto la nostra bordatura, e c'è, perché l'abbiamo fatto solo a metà? Perché qualcuno può scegliere di non bere, quindi di non assaggiare la bordatura, e quindi berrà dalla parte, diciamo, dove non è bordato il bicchiere, è tutto qua. A questo punto, possiamo andare a preparare il nostro drink, quindi andiamo a mettere il nostro bel ghiaccetto all'interno del nostro tin, benissimo, andiamo a raffreddare un pochino il nostro, appunto, fin, lo mettiamo un po' da parte, a questo punto, andiamo a inserire i nostri ingredienti liquidi all'interno del nostro mezzo tin, quindi, così come ci eravamo detti, abbiamo deciso di mettere 3 cl del nostro liquore, gli agrumi che va a sostituire il triple sec, benissimo, quindi che comunque gli darà una nota grumata e una parte dolce, dopodiché andiamo a mettere 2 cl di succo di limo, ne andiamo a mettere, abbiamo detto, un pochino di più, perché rispetto al lime è leggermente meno aspro, e andiamo a completare il tutto con 5 cl di tequila, bianca, perfetto, chiaramente questo è il tequila che io avevo a disposizione, tu usa quello che hai, dovresti utilizzare anche un mezcal in realtà, perché gli dà anche una nota leggermente affumicata, ovviamente le mie ricette sono sempre un po' da ispirazione, poi scegli tu come modificarla eventualmente, a questo punto il ghiaccio è bello secco, vado ad inserire gli ingredienti all'interno del mio shaker, è una bella shakerata energica, benissimo, in realtà io non l'ho assaggiato questo qui, perché l'avevo già fatto prima e mi era piaciuto molto, quindi fidati, poi ovviamente a quel punto andiamo a togliere il ghiaccio, e lo dobbiamo buttare nel lavandino, perché non lo rimettiamo a posto nel ghiaccio pulito, perché questo qui potrebbe essere appunto sporco, tra virgolette, della bordatura del bicchiere, andiamo a questo punto a versare i nostri ingredienti all'interno della nostra coppa, ragazzi il profumo è buonissimo, vado appunto a mettere il mio bel sotto bicchiere, e posso scegliere di servirlo tranquillamente così, in maniera lineare, oppure posso scegliere di metterci anche una spruzzata di oli essenziali sopra, posso metterci una bucetta decorata carina, come preferisci, io a questo punto scelgo di servirlo così, ed ecco a te il tuo yellow margarita, alla tua salute, e mi raccomando se ti è piaciuto questo video un bel mi piace, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere, e a darti maggiore contenuto gratuito, approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire, e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, Dindon, in questo modo rimarrai sempre aggiornato, e non ti perderai neanche un episodio, non resta altro di dirci, ci vediamo presto, anzi prestissimo, alla prossima, ciao!